Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Sempre sielo dato. Carissimi bambini, iniziamo questo incontro sulla dottrina cristiana con la nostra consueta preghiera. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Diciamo un'Ave Maria, carissimi bambini, per il nostro Santo Padre Benedetto, perché il Signore lo protegga e lo sostenga nella guida spirituale della Chiesa. Per i nostri cari, per le persone che ci vogliono bene e anche per tutti gli ammalati e i sofferenti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, carissimi bambini, oggi voglio raccontarvi una storia. La storia di questo ragazzo, di questo fanciullo, che si chiamava Samuele. Questo fanciullo era destinato a diventare un grande profeta, una guida del popolo di Israele. Da bambino i suoi genitori lo affidarono a un sacerdote e così Samuele viveva nel Tempio di Dio. Una notte, mentre dormiva, sentì qualcuno che lo chiamava. Samuele, Samuele. Allora Samuele si alzò, andò nella stanza di Eli, del sacerdote Eli, e disse, mi hai chiamato? Eli rispose, no, io non ti ho chiamato, ritorna a dormire. E così un'altra volta, sentì di nuovo la voce, Samuele, Samuele. Samuele si alzò, tornò da Eli, il sacerdote, ma il sacerdote non lo aveva chiamato. E disse il sacerdote, se ti tornerà a chiamare, rispondi, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Allora Samuele tornò a letto, a dormire, e il Signore, che era Dio che lo chiamava, lo chiamò per la terza volta, Samuele, Samuele. A quel punto Samuele disse, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. E da quel giorno Dio parlava abitualmente con Samuele, che divenne poi la guida del popolo di Israele. Pensate, cari bambini, Dio vedeva Samuele, parlava con lui, ma Samuele non poteva vedere Dio, perché Dio è purissimo spirito. Egli ci vede, sa tutto di noi. E guardiamo un'altra storia, questa. Questa è la storia invece di Mosè. Questo bambino che vedete nel cestello, in mezzo al Nilo, al fiume Nilo, è Mosè. Il popolo di Israele era schiavo in Egitto, voi lo sapete molto bene questa storia. Gli egiziani opprimevano gli ebrei, e avevano paura che il popolo degli ebrei diventasse troppo numeroso. Allora il Faraone ordinò che tutti i bambini maschi degli ebrei venissero uccisi al momento stesso della nascita. Mosè si salvò perché la sua mamma lo depose in una cesta e lo abbandonò sul Nilo. La cesta approdò in questa radura e una donna, la figlia stessa del Faraone, la principessa d'Egitto, che si trovava lungo il Nilo insieme alle ancelle per fare il bagno, sentì piangere un bambino, vide il bambino e volle adottarlo. Mosè è cresciuto nella reggia del Faraone d'Egitto. Perché il Signore ha voluto salvare? Ha voluto che si salvasse questo bambino perché doveva diventare il liberatore del suo popolo. Pensate che bella storia è questa. Dio sapeva in anticipo il futuro. Questo bambino diventerà il liberatore del suo popolo dall'Egitto. Dio conosceva il presente, il bambino nelle acque del Nilo. Dio conosceva il passato di questo popolo, i suoi antenati. coi quali Dio aveva stretto un patto, un impegno di amicizia, di alleanza. Quando, scegliendo il capostipite, il primo ebreo, che si chiamava Abramo, da cui sono nati tutti gli altri ebrei, quando scelse questo ebreo di nome Abramo, gli promise che la sua discendenza sarebbe diventata numerosa come le stelle del cielo. Quindi vedete che Dio sa proprio tutto. Sa il passato, sa il presente, sa il futuro, sa i pensieri di ogni persona. Dobbiamo imparare, carissimi bambini, in questo incontro sulla dottrina cristiana, due parole un po' difficili. La prima parola è onnipotente. Dio è onnipotente. Cosa vuol dire onnipotente? Che può fare tutto ciò che vuole. Dio può tutto. La prima parola è onnipotente. La seconda parola che noi oggi dobbiamo imparare è la parola onnisciente. Dio è onnisciente perché sa tutto, il passato, il presente, il futuro, di ogni creatura, persino i pensieri che gli uomini hanno. Ecco, queste sono, se volete puoi scrivere, queste due domande e risposte. Dio sa tutto. Dio sa tutto, anche i nostri pensieri. Potreste anche mettere tra parentesi. È onnisciente. Egli è onnisciente. Dio può fare tutto. Dio può fare tutto ciò che vuole. Egli è l'onnipotente. Quindi, ecco, prendiamo, vediamo qualche applicazione pratica, ecco. Questa frase dice Esegui con diligenza i compiti che devi portare a scuola e studia bene la lezione sotto lo sguardo di Dio. Bella questa espressione. Studiare sotto lo sguardo di Dio. Quando fai i compiti, devi pensare che in quel momento Dio ti guarda. Ecco, ma anche non solo quando fai i compiti, anche quando fai tutte le altre cose della giornata. E questo invece dice Durante il giorno, ecco quella frase in grossetto, Pensa qualche volta a Dio che ti è sempre presente. Ci pensi a Dio durante il giorno qualche volta. E pregalo, fa mio Dio che io non offenda mai la tua presenza con il peccato. In questo disegno, voi vedete che questo bambino sta andando a prendere nella dispensa qualcosa che non potrebbe prendere. La mamma lo ha messo in alto apposta. E qui vedete l'occhio di Dio che lo guarda. La sua sorella gli ricorda con il gesto della mano Stai attento perché Dio ti vede. Come, scusate, come compito per questa settimana io vi darei questo. Guardate, in una pagina del vostro quaderno Innanzitutto fate il titolo generale che può essere ancora questo Le grandezze di Dio Io qui non l'ho scritto Dopo aver scritto il titolo Le grandezze di Dio Ancora Questa pagina è riassuntiva È un riassunto di quello che abbiamo imparato in questi giorni Ecco, fate al centro la prima domanda Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo Creatore e Signore del cielo e della terra Poi una seconda domanda Come è Dio? A cui si risponderà In cinque modi Vedete i numeri Cinque modi È eterno Tra parentesi la spiegazione È sempre stato E sempre sarà Punto due È onnipotente Tra parentesi Può fare Tutto ciò Che vuole Spero che possiate capire la mia scrittura Terzo È purissimo spirito Tra parentesi Non ha corpo Quattro È immenso Tra parentesi È in cielo In terra E in ogni luogo Perciò è immenso Lo puoi trovare ovunque Cinque È onnisciente Ecco la parola Che abbiamo imparato oggi Aperta parentesi Sa tutto Anche i nostri pensieri Noi potremmo aggiungere Il passato Il presente Il futuro Di ogni creatura Quindi Chi è Dio Come è Dio Questa è una prima Un primo riassunto Poi nei prossimi incontri Impareremo Altre cose Sia lodato Gesù Cristo Terminiamo con L'angelo di Dio Angelo di Dio Che se il mio custode Illumina Custodisci Regge E governa me Che ti fui affidato Dalla pietà celeste Amen Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen Al prossimo incontro Bambini